Se vuoi le ultime notizie di Gossip diventa nostro amico iscriviti qui sotto. Evviva! Oggi 503 amici. Frase del giorno. Le brave persone non hanno bisogno di leggi che dicano loro di agire responsabilmente, mentre le cattive persone troveranno un modo per aggirare le leggi. Indovinello. Ieri, la terra. Oggi, si sposta nell'aria ma non è un uccello, vive in acqua ma non è un pesce. Chi è? E ora sigla. Guarda il video, metti un like e poi scrivi nei commenti e rispondi. Noi trattiamo Gossip, ultime notizie, i reality come GF VIP, Isola dei Famosi, Temptation Island, Uomini e Donne eccetera. Pubblichiamo tutti i giorni, se ti interessa torna a trovarci ti aspettiamo. Ora pubblicità che fa bene al cuore e alla fine l'elenco degli amici che hanno inviato la foto. Pubblichiamo tutti i giorni, se ti interessa torna a trovarci ti aspettiamo. Pubblichiamo tutti i giorni, se ti interessa torna a trovarci ti aspettiamo. Ciao amica, o amico, ti va di guardare altri video clic sul filmato scelto. Se ami il gossip in i social noi pubblichiamo video tutti i giorni, è stato un piacere averti qui, torna a trovarci ti aspettiamo. Grazie. 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 Grazie.